1863-2019 ricorre oggi il 156esimo anniversario dell'istituzione del Corpo della Polizia Locale di Fano. Le celebrazioni sono iniziate con una cerimonia religiosa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola Armando Trasarti, il quale ha ricordato durante la funzione l'importanza e il valore etico che l'arma è tenuta a rispettare, ovvero quello del bene inteso come valore morale da garantire in servizio. Un Corpo della Polizia dice Trasarti deve stare bene con se stesso, solo così si può fare del bene agli altri. Ogni istituzione pubblica fa del bene alla città e per fare del bene bisogna stare in pace con la propria vita. Alla funzione religiosa erano presenti le autorità civili e militari. L'occasione è importante per comunicare alla cittadinanza quelle che sono le attività che quotidianamente svolgiamo, attività che sono prioritariamente di tutela della sicurezza pubblica e per questo vogliamo essere più vicine alla cittadinanza, operando sempre con senso di responsabilità, buonsenso e cortesia e come sempre diciamo a tutela dell'ordinato vivere comune e per una migliore vivibilità cittadina. Il sindaco di Fano ha voluto ricordare anche l'importanza, il contributo che negli anni il Corpo di Polizia ha dato nella sua lunga attività di servizio per la crescita civile della comunità fanese. Celebrare un anniversario significa anche avere un senso di appartenenza, un senso di comunità, un senso di vicinanza e quindi la Polizia Municipale in una città svolge un ruolo delicato ed importante. Ecco, questi momenti sono importanti per questo, per fare anche un punto della situazione delle attività svolte durante l'anno e anche un momento per ringraziare coloro che hanno fatto anche qualcosa in più del normale servizio e ce ne sono anche in questo contesto. Quindi è un'occasione anche per me per dire grazie a tutto il Corpo di Polizia Municipale. I festeggiamenti poi sono proseguiti con un inno nazionale di apertura che ha fatto da preludio alla cerimonia civile alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna dove è stato ricordato l'impegno che la Polizia effettua nella quotidianità e dove vede il corpo impegnato su diversi fronti. L'amministrazione comunale invece ha ricordato gli impegni della Polizia presi in futuro. Abbiamo intenzione di comunicare in modo più importante e puntuale alla città tutte quelle che sono le attività dei vari nuclei operativi spiegando meglio tutti quelli che sono i servizi e le attività che fanno e abbiamo intenzione, abbiamo già iniziato per la verità, di integrare maggiori unità di vigili e ufficiali nel corpo per cui entro il 2020 ci saranno sei nuove assunzioni di cui tre vigili o vigilesse e tre ufficiali.